Io faccio il tifo per Fernando Iero che è stato mio giocatore, però credo che la Spagna abbia sbagliato a mandare via Lopetegui, non si fa così, può esserci stato un po' di arroganza, non sicuramente può esserci stato, c'è stata arroganza da parte del Real Madrid nel trattare l'allenatore del nazionale senza avvisare magari la federazione, però sappiamo come è fatto Florentino Perez, però la federazione ha sbagliato a desonerare l'allenato.